Ciao a tutti, sì, sono molto contento di essere ritornato qui e non vedo l'ora di ripartire col campionato e di cercare di fare un anno migliore di quello dell'anno scorso. No, sicuramente sì, era un mio volere ritornare qui perché l'anno scorso sono stato veramente molto bene e quindi ero molto contento di ritornare qui. No, sicuramente si sta costruendo un gruppo importante di bravi ragazzi, cercheremo in tutti i modi di creare la famiglia che si è creata l'anno scorso. L'aspettativa per la nuova stagione è cercare di fare meglio dell'anno scorso e dimostrare domenica dopo domenica che possiamo cercare di mettere una bella impronta su questo campionato. Un saluto a tutti i tifosi, forza sempre Catanzaro e ci vediamo allo stadio.